Il spot ci insegnano di cui sei, di cui va e non si va da nessuna parte e dimostra sempre con le sue grandi rimonde che nello spot e nella vita sono possibili. Questo è l'apporto per noi, mamme, più coinvolgente e quello dell'atleta, dell'aspetto più pratico. Io devo dire che la Federica che aveva detto quando ha perso l'ombra, io ho visto una Federica vera che è in alta. Siate i primi tifosi dei vostri figli e siete fondamentali, ripeto, e non i primi allenatori.